Ciao caro spettatore, spero tu abbia già fatto click sulla campanella per iscriverti così da non perdere nuove parti o nuove storie. Goditi la storia e ovviamente divertiti a guardarla. Post Scriptum. Questa storia è stata scritta da un utente con lo pseudonimo di Many Feathers ed io ho solo fatto la censura in modo che questa storia potesse essere ascoltata dai miei spettatori su YouTube. Non rivendico la paternità di questa storia. La vendetta è servita dolcemente. Capitolo 1. Dopo dieci anni di matrimonio era finita. Alla fine ho fatto tutto quello che potevo per cercare di salvare il matrimonio ma senza successo. Non sono neanche a favore del divorzio, almeno finché non è stato fatto tutto il possibile per evitare che accada. Ma ho fatto tutto. Quindi quando la mia ex moglia ha fatto causa ho cercato di rendere le cose il più amichevoli possibile. Ma come si suol dire non esiste un buon divorzio. Avevamo appena lasciato il tribunale. Ero in piedi nel lungo corridoio che portava fuori dalla sala d'udienza parlando con il mio avvocato quando la mia, ora ex moglie, è venuta da me. Tom, posso parlarti per un minuto? Ciese. Il mio avvocato ha accennato a un'altra riunione e ha detto addio. Cosa c'è Silvia? La mia ex. Era una persona molto affettuosa, quindi quando ha messo la mano sulla mia spalla non ci ho fatto molto caso. Dopotutto era solo chi era lei. Alla fine però ho scoperto che faceva molte cose con altri ragazzi. Nessun rancore. Ciese l'ho guardata con quello che potrebbe essere descrito solo come disprezzo. Aveva praticamente sfruttato me, anche se l'unica cosa su cui ero riuscito a tenerla lontana erano il lussuoso rifugio che io e mio padre avevamo costruito insieme in alto nelle montagne Uinta. Una specie di ritiro familiare che avevo ereditato poco dopo la morte dei miei genitori e un pezzo di proprietà a cui, secondo il tribunale, la mia ex non aveva diritto, dato che era stato acquistato e pagato molto prima che ci sposassimo. Quello è una piccola impresa familiare che mio padre aveva avviato e che ora gestivo da solo, che includeva diversi terreni che all'epoca valevano poco o nulla. Non credo tu sia interessata a vendere il rifugio, vero? Chiese con audacia. Ti darei un giusto valore di mercato per esso, Tom, e so che potresti usare i soldi. Lo disse un po' troppo leggermente. Silvia contrattava, implorava, cospirava, faceva di tutto per convincermi. Dove avevamo trascorso insieme alcuni minuti molto romantici, erotici e molto sensuali. Sinceramente non riuscivo a capire perché significasse così tanto per lei nelle circostanze. Fino a quando, anni dopo, non ho scoperto che aveva spesso incontrato altri uomini lì durante il nostro matrimonio. Mi dispiace. No, Silvia, non sono così cattivo, risposi, scrollando la mano dalla mia. Beh, dovevo chiedere, disse, si voltò e si preparò a camminare nella direzione opposta. Poi si fermò per un momento e si voltò verso di me. Sono rimasto un po' sorpreso nel vedere cosa ho preso per una vera lacrima all'angolo del suo occhio. Devo confessarti una cosa, Tom. Spero di non guardare indietro tra dieci anni e realizzare di aver commesso un errore. Onestamente non sapevo come reagire a quella frase. Da una parte l'amavo, d'altra parte era difficile mettere da parte dieci anni di matrimonio, anche se aveva avuto le sue sfide. Ma è quello che succede in maggior parte dei matrimoni, vero? Tuttavia avevo la sensazione di aver fatto tutto il possibile per evitare che accadesse, ma quando i documenti finali sono stati firmati, ho realizzato che non c'era più nulla da fare, qualunque cosa succedesse. Mentre guardavo Silvia camminare lungo il lungo corridoio verso l'uscita, non potevo sfuggire al pensiero che questo fosse probabilmente l'ultimo momento in cui mi avrebbe toccato, anche solo di sfuggita. Aveva un bel sedere e gambe lunghe e sagomate che amava cavalcare quando facevamo l'amore. Cavolo, dissi ad alta voce, che ha sorpreso un paio di persone in piedi nelle vicinanze che mi hanno sentito imprecare. Non potevo credere di essere rimasto lì così, a fissare il suo sedere quasi perfetto, mentre si allontanava da me e dalla mia vita. Scusa, ho aggiunto rapidamente con un cenno a loro e mi sono voltato per andarmene nella direzione opposta alla mia moglie, o meglio ex moglie. Quello che mi infastidiva di più era che lei riusciva ancora a darmi un'erezione ogni volta che la guardavo. E ora ne avevo già una, il che mi faceva ancora più arrabbiare, visto che sapevo di non sarebbe mai stato più con lei. L'unico lato positivo era che non avevamo figli insieme che sarebbero stati influenzati dal nostro divorzio. Ero guarito dalle orecchioni da adolescente. Il scemi rendeva effettivamente sterile, ma certamente non rendeva più facile quando era il momento per me di sistemarmi e iniziare una famiglia. Alcuni minuti molto romantici, erotici e molto sensuali. Sinceramente non riuscivo a capire perché significasse così tanto per lei nelle circostanze. Fino a quando anni dopo non ho scoperto che aveva spesso incontrato altri uomini lì durante il nostro matrimonio. Mi dispiace. No Silvia, non sono così cattivo, risposi scrollando la mano dalla mia. Beh, dovevo chiedere, disse, si voltò e si preparò a camminare nella direzione opposta. Poi si fermò per un momento e si voltò verso di me. Sono rimasto un po' sorpreso nel vedere cosa ho preso per una vera lacrima all'angolo del suo occhio. Devo confessarti una cosa, Tom. Spero di non guardare indietro tra dieci anni e realizzare di aver commesso un errore. Onestamente non sapevo come reagire a quella frase. Da una parte l'amavo, d'altra parte era difficile mettere da parte dieci anni di matrimonio, anche se aveva avuto le sue sfide. Ma è quello che succede in maggior parte dei matrimoni, vero? Tuttavia avevo la sensazione di aver fatto tutto il possibile per evitare che accadesse, ma quando i documenti finali sono stati firmati, ho realizzato che non c'era più nulla da fare, qualunque cosa succedesse. Mentre guardavo Silvia camminare lungo il lungo corridoio verso l'uscita, non potevo sfuggire al pensiero che questo fosse probabilmente l'ultimo momento in cui mi avrebbe toccato, anche solo di sfuggita. Aveva un bel sedere e gambe lunghe e sagomate che amava cavalcare quando facevamo l'amore. Cavolo, dissi ad alta voce, che ha sorpreso un paio di persone in piedi nelle vicinanze che mi hanno sentito imprecare. Non potevo credere di essere rimasto lì così, a fissare il suo sedere quasi perfetto mentre si allontanava da me e dalla mia vita. Scusa, ho aggiunto rapidamente con un cenno a loro e mi sono voltato per andarmene nella direzione opposta alla mia moglie, o meglio ex moglie. Quello che mi infastidiva di più era che lei riusciva ancora a darmi un'erezione ogni volta che la guardavo. E ora ne avevo già una, il che mi faceva ancora più arrabbiare, visto che sapevo di non sarebbe mai stato più con lei. L'unico lato positivo era che non avevamo figli insieme che sarebbero stati influenzati dal nostro divorzio. Ero guarito dalle orecchioni da adolescente. Il momento per me di sistemarmi e iniziare una famiglia. Alto poco più di sei piedi, ero in ottima forma, abbastanza muscoloso anche se non come un culturista, e bruttamente bello, anche se devo dirlo io stesso. Con una testa piena di capelli scuri, occhi verdi penetranti e un naso leggermente storto che mi dava più carattere che dolcezza. Avevo avuto la mia parte di donne, anche se una volta scoperto che non ero in grado di generare un figlio, di solito portava alla rottura di qualsiasi relazione a lungo termine. Quindi ero sorpreso quando, dopo un anno o giù di lì, ho incontrato un'altra donna che alla fine è diventata mia moglie. Nei successivi dieci anni ho fatto crescere la mia attività, costruito una nuova casa, e avevo praticamente tutto quello che sognavo. Questo includeva una moglie che mi amava. Certo, avevamo ancora alti e bassi come ogni coppia sposata, ma rispetto a come era la vita con la mia ex moglie, era quasi paradisiaca. Dato tutto ciò, penseresti che dovessi essere la persona più felice del mondo, e per la maggior parte lo ero, ma ogni tanto, di solito intorno all'anniversario della mia ex, pensavo a lei e sentivo un vecchio dolore lacerarmi il cuore. Cindy e io avevamo una vita sessuale normale, niente di particolarmente selvaggio o eccitante, più come confortevole, il che andava bene, ma sfortunatamente lì finiva. Devo dare atto a Silvia. Sapeva fare l'amore come una donnola, ma come una donnola. Non era esigente su chi lo facesse con lei. E così, per dieci anni, ho vissuto la mia nuova vita, felice quanto potevo essere e come mi aspettavo di essere, e semplicemente scacciavo via tutti i pensieri e i ricordi della mia ex quando affioravano. Questo fino a quando non mi sono imbattuto accidentalmente in lei presso una concessionaria di auto quando sono entrato lì per far riparare la mia nuova jeep. All'inizio, nessuno di noi due si è riconosciuto. Non sembrava che nessuno di noi due fosse cambiato molto in dieci anni, ma le persone cambiano, e ci è voluto un po' per rendercene conto. Quando è successo, sembrava che entrambi lo scoprissero contemporaneamente, stando nella sala d'attesa del centro assistenza. Tom, pensavo fossi tu, non sei cambiato così tanto in dieci anni. Come stai comunque in questi giorni? Mi chiese. Silvia era cambiata. Sembrava ancora meglio di prima. Aveva messo su qualche chilo in più, ma allora anche io. Ma sembrava meglio su Silvia. Avevo sempre controllato il suo peso. Era sempre stata troppo magra per i miei gusti. E ora era esattamente dove avrei voluto che fosse dieci anni fa, specialmente perché sembrava un po' più prosperosa nella zona del seno rispetto a quanto ricordasi. Ci siamo seduti nell'area d'attesa, scambiando piatevolità, raccontandosi cosa avevamo fatto e cosa avevamo realizzato negli ultimi dieci anni. Le ho parlato della mia attività, di dove abitavo e ovviamente abbiamo entrambi scambiato il fatto che ci eravamo risposati, anche se lei circa un anno fa. Ciò significava che ora era di nuovo single. Un minuto dopo ho sentito il mio nome chiamato attraverso l'altoparlante, informandomi che la mia jeep aveva completato il suo primo cambio olio e manutenzione. Beh, Silvia, è stato bello rivederti, dissi, non sapendo cosa altro dire, specialmente perché avrei voluto tirare fuori la lingua e dire una stupidaggine del tipo mi dispiace che la tua vita sia andata in discesa o qualcosa del genere, ma ovviamente non l'ho fatto. Quando mi sono alzato per andarmene, lei si è alzata anche e ha teso di nuovo la mano, posandola sul mio braccio. Apparentemente i vecchi abitudini muoiono difficilmente. Ricordi quel giorno fuori dalla sala d'udienza? Cominciò. Come potrebbe non esserlo? Mi dissi dentro. Ti ricordi cosa ti ho detto l'altro giorno? Mi cisse. Me lo ricordavo, ma ho fatto finta di niente, volendo sentire le sue parole e fingere di aver dimenticato tutto. Ti ho detto allora che speravo che tra dieci anni non guardassi indietro e mi ciedessi se avessi commesso un errore. Tutto sì o ce riuscivo a fare era guardarla. Ance mentre sentivo ce mi chiamavano al banco servizio per la seconda volta. Devo dirti, Tom, che da quando mi sono divorziata la seconda volta mi sto ponendo quella domanda. Davvero? E ora? Mi sto facendo quella domanda di nuovo. Per un attimo ho voluto tendere la mano e afferrarla, abbracciarla e baciarla appassionatamente e nello stesso momento ho voluto darle un pugno in faccia. Era discutibile quale delle due opzioni preferissi, ma alla fine ho preso il controllo delle mie emozioni. Guarda Silvia, devo proprio andare, ma forse potresti chiamarmi al lavoro qualche volta e possiamo parlarne. Le dissi. Poco dopo me ne sono andato. Ho pagato e ritirato la mia jeep. E poi, mentre tornavo a casa, mi sono rimproverato molto quando ho realizzato quanto fosse stupida la cosa che avevo fatto suggerendo che mi chiamasse al lavoro qualche volta. Ho proprio pregato che ero arrabbiato con me stesso. E ancora peggio, arrabbiato come l'inferno. Come è andata? Chiese Cindy in piedi al lavello, lavando diversi piatti del brunch. Sono venuto dietro di lei. Ho messo le braccia intorno alle sue spalle e le ho accarezzato affettuosamente il seno, che presto si è trasformato in carezze più desiderabili e domandanti, mentre ero dietro mia moglie, premendo me stesso contro di lei. Cos'è successo a te? Chiese, tirandosi leggermente indietro, il che ammetto mi ha un po' infastidito. Niente, dissi un po' colpevolmente, vergognandomi di accarezzare mia moglie, sapendo benissimo che era stato l'incontro con la mia ex moglie a farmi eccitare. È passato un po'... è tutto, le dissi. E in effetti erano passate tre settimane dall'ultima volta che avevamo fatto l'amore insieme. Cindy rise come aveva fatto la prima volta che abbiamo iniziato a frequentarci e, per un attimo, ho ricordato quei primi minuti pieni di desiderio che avevamo trascorso insieme e ho pensato che forse avrei avuto fortuna dopo tutto. Forse più tardi mi ha fatto l'occhiolino, il che era promettente. Mentre si girava per allontanarsi dalle mie braccia, ha iniziato a ricordarmi i lavori del sabato che dovevano ancora essere fatti. Mi ha ricordato i lavori del sabato che ancora dovevano essere fatti e il fatto che avevamo promesso di andare a cena da amici quella sera. Merda! Esclamai ad alta voce. Avevo completamente dimenticato e, improvvisamente, mi resi conto che non ci sarebbe stata possibilità di fare sesso quella sera se ci fossimo recati lì. Glielo ho fatto notare, poiché sapevo che una volta tornati a casa sarebbe stato troppo tardi. Dai, Cindy, ho ripreso. Sai bene come va a finire. Una volta arrivati a casa non sarai più nel mood per fare niente. Ho visto lo sguardo ferito sul suo viso dopo quelle parole. Forse non era stata la cosa più tattica da dire, ma alla fine era la verità. Va bene? Si è alzata e ha sbottonato il grembiule che stava lavando i piatti. Vuoi andare su e farlo? Allora mettiamoci al lavoro. Si è avviata nella direzione delle scale che portavano alla camera da letto. Di solito arretravo, cedeva, chiedevo scusa e chiedevo perdono. Continuai a farlo molte volte in passato, ma non questa volta. Da una parte ero ancora arrabbiato con me stesso per aver permesso alla mia ex di farmi arrivare a questo punto e dall'altra ero ancora eccitato, tanto che anche il sesso arrabbiato per mandarla a Dea a letto era meglio di niente. O almeno così pensavo. Improvvisamente mi trovavo già a seguirla su per le scale, slacciandomi la cintura mentre procedevo. Quando arrivai, lei era sdraiata sul letto ad aspettarmi. Ma non era una di quelle pose sensuali e sexy che avevo visto quando l'avevo trovata. Di nuovo riconobbi quell'aspetto e quella posa. L'aveva usata una volta prima, solo c'è quella volta mi ero vestito e avevo lassiato la stanza senza fare nulla. Ma non questa volta. E questa volta. Penso di averla sorpresa di sorpresa. Aveva una sensualità che mi eccitava ogni volta che la vedevo nuda, cosa che non pensavo accadesse molto spesso. Finì di togliermi i vestiti e notai l'espressione sorpresa sul viso di Cindy. Apparentemente pensava che mi sarei girato e avrei lasciato la stanza, come avevo fatto prima. Invece mi avvicinai al letto e salì accanto a lei. Cindy continuava semplicemente a giacere lì, immobile, non reagendo a me e chiaramente arrabbiata, anche se non avrebbe detto nulla a riguardo. Cindy ovviamente aveva già stretto le gambe insieme, distese di nuovo a lunghezza intera sul letto e mentre io raggiungevo per cominciare a frugare sotto, mi resi conto che ero altrettanto determinato quanto lei e questa volta, ancora più determinato, a ottenere il mio, non importa quanto la infastidisse e onestamente a questo punto non me ne importava un bel niente dei suoi sentimenti. O dei miei, per la verità, Cindy non era una donna molto piccola, ma ero abbastanza forte da raggiungerla in un attimo e letteralmente ribaltarla sulla pancia. Penso che quando lo feci l'abbia sorpresa fino in fondo, anche se certamente non lo avrebbe ammesso. Non ero mai stato così brusco con lei nella nostra vita matrimoniale. Ahì, disse Cindy. Tom, stai attento, fa male. Alla fine mi dovete dirlo, lei, e mi resi conto che la infastidiva dover me lo ammettere. Il che mi fette solo sorridere e ci mi infastidi ancora di più quando mi resi conto di tutto ciò, ma non dissi nulla, continuai semplicemente, forse un po' più energicamente, di quanto sarebbe stato possibile. Non così forte, Tom, mi disse. Di solito mi prendevo il mio tempo con Cindy, eccitandola quanto lo ero io. Mi piaceva fare sesso orale, con lei, poiché chiaramente questa non era un'attività regolare per nessuno di noi. Continuai semplicemente ad entrarle da dietro. Sentii Cindy allungarsi indietro e sotto di sé, per finire prima di me, o almeno per farlo poco dopo di me. Chiamatemi, stupido, perché ammetto di aver agito in quel modo, ma il sentimento di mia moglie che competeva con me in questo mi arrabbiò così tanto che ero determinato a vincere questa piccola sfida di volontà e così feci l'impensabile. Ho finto. Sì, lo so, ma a volte non veniva così tanto fuori, specialmente se avevo fretta. Così ho solo contato su quello. Nel momento successivo entrai in lei il più profondamente possibile, mi fermai, gemetti e urlai. Uscì da lei ed ero già fuori dal letto e Cindy non mi guardò nemmeno mentre mi giravo e uscivo dalla camera da letto, dirigendomi verso il bagno degli ospiti, anziché usare il nostro bagno connesso alla nostra camera. Pensai che Cindy lo stesse usando presto e, dopo qualche minuto, quando sentii la porta sbattere, mi resi conto che lo stava facendo. Mentre ero in bagno, pensai a quanto danni avevo... avevamo veramente fatto al nostro matrimonio. Fortunatamente avevo abbastanza cose da fare fuori per tenermi occupato per il resto della giornata, ma ancora più importante, per distrarmi da Cindy. Inevitabilmente era ora di recarsi a casa dei nostri amici per cena. Shelley e Cindy erano amiche da diversi anni, erano sposate da quasi quanto lo eravamo noi con Cindy e lei e Frank avevano quello che molti considererebbero il matrimonio perfetto. In tutto il tempo che ci conoscevamo non li avevo mai visti litigare o discutere su nulla. Certo, non erano sempre d'accordo, ma sempre scherzosamente e non c'era mai alcuna indicazione che uno o l'altro di loro avrebbe pagato per questo in seguito. E un'altra cosa che mi piaceva della nostra relazione con loro era che Shelley era molto attraente, così come lo era suo marito Frank. Sia Shelley che Frank erano flirtatiosi, il che non aveva mai infastidito né turbato né Cindy né me, forse perché Cindy conosceva così bene la sua amica, non si sentiva mai minacciata da tutti i doppi sensi sessuali che faceva a me durante tutta la serata. Frank si comportava allo stesso modo con Cindy e penso che lei apprezzasse l'attenzione, poiché in alcuni casi diventava il catalizzatore per degli intensi rapporti amorosi tra Cindy e me, anche se di nuovo di solito non accadeva nella stessa serata, poiché tornavamo sempre a casa piuttosto tardi quando eravamo lì. Eravamo lì abbastanza a lungo perché Frank ci versasse tutti un drink quando vedi Shelley mandare via Cindy in un angolo da qualche parte. Come una sorella sembrava sempre sapere quando Cindy era preoccupata per qualcosa e cercava sempre di tirare Cindy da parte ed estrarre da lei esattamente cosa stesse succedendo. Sapevo che nessuno dei due aveva segreti. Uno su uno io e Frank ci ritrovammo a discutere di calcio e delle ultime notizie sul lavoro mentre Shelley e Cindy facevano chiacchiere nel soggiorno. Guardai di tanto in tanto nella loro direzione, cercando di cogliere qualche segnale su come andasse la conversazione. Levi di ridere e scambiarsi sguardi complici, ma non riuscivo a decifrare il contenuto delle loro discussioni. Quando finalmente venne il momento di sedersi a tavola per la cena, Shelley e Cindy sembravano ancora intente nella loro conversazione. Anche durante la cena erano visibilmente assorti nei loro discorsi, a volte sussurrando e ridacchiando tra loro. Frank e io ci guardammo per un attimo, scambiandoci un sorriso complice di fronte alla scena. Le donne, vero? Disse Frank scrollando le spalle. Non le capiremo mai del tutto. Risposi con un sorriso, concordando tazzitamente. Dopo cena, mentre ci godevamo, un bicchiere divino sul divano, li donettonarono finalmente nel soggiorno. Abbiamo bisogno di rubare i vostri mariti per un momento? Chiese Shelley sorridendo. Solo per un attimo. Risposi, sorseggiando il mio vino. Frank e io ci alzammo e andammo in cucina per aiutarle con i piatti sporchi, lasciando le donne da sole nel soggiorno. Mentre lavavamo i piatti, Frank mi guardò di traverso. Va tutto bene, Tom? Chiese notando la mia distrazione. Sì, sì, tutto bene. Risposi, cercando di scacciare i pensieri della serata. Solo un po' stanco, credo. Capisco, disse Frank, con un cenno comprensivo del capo. Le serate con le mogli possono essere impegnative, eh? Diciamo di sì. Concorsi, pensando ancora alle stranezze della serata. Dopo aver finito i piatti, tornammo nel soggiorno, dove le donne stavano ancora chiacchierando.